Siamo a posto. Siamo a posto. Siamo a presentarli tutti insieme ma è una conferma di quello che già da qualche anno stiamo portando avanti come strategia di mercato, cioè quello di inserire ogni anno qualche giovane nel gruppo e allo stesso tempo puntellare le esigenze tecniche che l'allenatore ci sottolinea con calciatori anche già di affidabilità e sicurezza per quello che hanno dimostrato nella carriera. Quindi non posso che confermare quello che hai detto e loro tre rappresentano appunto un altro tassello verso questo obiettivo che comunque abbiamo sempre portato avanti. Una domanda velocissima per tutti e tre. Comincio da Ames.